La Procura della Repubblica indaga sulle procedure seguite per l'assegnazione delle spiagge libere. I carabinieri hanno prelevato la documentazione a Palazzo del Pincio. Il Vice Sindaco e Assessore alle partecipate Massimiliano Grasso assicura che i servizi di CSP non saranno privatizzati e annuncia i contorni del piano industriale. È rivolta tra gli abituali frequentatori della spiaggia del Marangone dopo la decisione di istituire il divieto di sosta nella piazzola utilizzata per parcheggiare. Il ritorno nel Consorzio per la Gestione dell'Osservatorio Ambientale viene contestato dal Movimento 5 Stelle che aveva affidato il servizio ad Arpalazzo. Appuntamento settimanale con il sonnetto di Pasquino. Questo sabato l'anonimo poeta dialettale si occupa di politica ma vista sotto l'aspetto dei cattivi comportamenti. Buonasera e ben trovata a questa edizione del TRC Giornale. Dunque la Procura della Repubblica di Civitavecchia indaga sul bando per la gestione delle spiagge pubbliche. L'indiscrezione arriva direttamente da Palazzo del Pincio dove nei giorni scorsi sono arrivati i carabinieri che hanno prelevato tutta la documentazione inerente al bando sul quale il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle aveva chiesto chiarimenti sia al demanio marittimo che al segretario generale di Palazzo del Pincio. Vediamo il servizio. C'è un'indagine della Procura della Repubblica di Civitavecchia in merito al bando in base al quale sono state date in gestione le spiagge libere che si trovano in città. L'indiscrezione arriva direttamente dal comune e parla dell'arrivo dei carabinieri a Palazzo del Pincio. I militari si sono fatti consegnare la documentazione dall'ufficio che ha curato il bando. Evidentemente a determinare l'attenzione della magistratura attorno alla questione deve esserci stato un esposto presentato probabilmente da uno dei soggetti rimasti esclusi. La vicenda peraltro ha anche un risvolto di carattere amministrativo. Come si ricorderà infatti il mese scorso il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle aveva chiesto chiarimenti in merito al direttore del demanio marittimo e al segretario generale del comune Pompeo Savarino rappresentante locale dell'ANAC ovvero dell'autorità anticorruzione. Secondo il gruppo consigliare Pentastellato sarebbero stati presenti motivi di esclusione nei confronti di alcuni soggetti. In particolare il motivo del contendere era rappresentato dal fatto che a partecipare al bando sono stati cinque soggetti che in realtà erano soltanto due. Tre progetti peraltro uguali erano stati presentati da tre società diverse riconducibili però ad una stessa persona cosa avvenuta per altri due progetti anch'essi presentati da società diverse che però erano composte dalla stessa persona fisica e anch'essi uguali. Nel bando a quanto pare era espressamente scritto che ciò non era possibile quindi si avanza l'ipotesi che dovesse scattare automaticamente il motivo di esclusione. La stessa commissione aggiudicatrice pare si fosse resa conto del problema segnalando l'anomalia ma che abbia poi proceduto ugualmente all'assegnazione della gestione delle spiagge libere vista la ristrettezza del tempo a disposizione. Rimettere in piedi un nuovo bando avrebbe infatti significato procedere all'assegnazione in estate inoltrata il tutto a danno degli utenti di cui la decisione di andare all'assegnazione sulla base della data di presentazione delle domande. Ogni dubbio di carattere amministrativo sarà comunque chiarito nei prossimi giorni quando arriverà la risposta del segretario generale ai quesiti posti dal gruppo consigliare dei 5 Stelle. Nell'ambito delle attività di contrasto al traffico trasfrontaliero dei rifiuti i funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli in collaborazione con i carabinieri forestali della locale stazione hanno sequestrato in due distinte operazioni due container da 40 piedi carichi di rifiuti in partenza per il Paraguay. Entrambi i carichi riguardavano pneumatici fuori uso del peso complessivo di circa 50 tonnellate dichiarati all'esportazione come pneumatici usati. Il primo e il secondo erano composti da gomme per auto autocarro in avanzato stato di usura e in pessimo stato di conservazione stivati alla rinfusa anche uno dentro l'altro senza alcuna precauzione per salvaguardarne l'integrità. I pneumatici fuori uso sono classificati come rifiuti non pericolosi e la mancanza di documentazione idonea unita alle pessime condizioni in cui sono stati rinvenuti hanno portato all'immediato sequestro mentre i due esportatori sono stati denunciati per traffico illesito di rifiuti in ambito trasfrontaliero. Cambiamo argomento. Nessuna privatizzazione dei servizi di Civitavecchia servizi pubblici nel corso di una conferenza stampa il vice sindaco e assessore alle partecipate Massimiliano Grasso ha voluto mettere la parola fine su una delle voci maggiormente circolanti in questi giorni sul futuro dei CSP e che maggiormente agita le organizzazioni sindacali. Le ascoltiamo in questa intervista. Io credo che più che parlare si straparli da parte soprattutto di qualcuno che vuole a tutti i costi forse osseminare zizzania oppure non so francamente in questa fase così delicata per l'azienda, per CSP e quindi anche per i dipendenti e i lavoratori a chi giovi creare delle tensioni ulteriori laddove non c'è assolutamente motivo di farlo. Mi riferisco in particolare, ho letto a chi ha parlato di privatizzare alcuni servizi dell'azienda stessa io ribadisco quella che è la linea e quello che è l'indirizzo del socio unico del Comune di Civitavecchia che è già stato illustrato peraltro alle organizzazioni sindacali nei recenti incontri avuti. L'azienda rimarrà al 100% del Comune di Civitavecchia e per quanto riguarda i servizi addirittura saranno aggiunti ulteriori servizi che saranno dati alla stessa CSP senza che ci siano privatizzazioni o altre azioni che sono state paventate. Come lei ha detto aprirà anche a nuovi servizi che entreranno, su tutti per esempio quello del pronto intervento stradale quello che lei ha definito così. Sì, piccole manutenzioni stradali o anche degli immobili comunali ma anche servizi di supporto amministrativo a progetto o servizi di portierato penso ad esempio ai tecnici del Traiano quindi c'è tutta una serie di azioni prima non ho detto anche servizi di natura di informazione turistica ad esempio per quanto riguarda le cose che sono state dette penso ad esempio alle farmacie la privatizzazione delle farmacie la smentisco categoricamente non è mai stata in programma in programma si sta verificando questo sì piuttosto l'opportunità di chiudere la farmacia della stazione che genera perdite e non potrebbe essere dislocata altrove ma questo in realtà consentirà di razionalizzare anche il personale stesso delle farmacie inserendo in turno e quindi nella rotazione sulle altre farmacie comunali i dipendenti della stazione noi stiamo facendo un'azione molto molto importante che avremmo portato a compimento già quest'anno potenziando invece il trasporto pubblico per quanto riguarda il trasporto dal porto alla città dei turisti e dei croceristi è chiaro che il covid purtroppo ci ha fatto rimandare tutta questa operatività di questo nuovo servizio all'anno prossimo quando torneranno i croceristi ma nessuno pensa o ha mai pensato di privatizzare come ho letto addirittura il navettamento di queste persone siamo in emergenza loculi ci sono da realizzare nuovi loculi riteniamo che la forma migliore per farlo sia appunto come diceva lei la forma di partenariato pubblico privato e per questo quindi verrà reinternalizzato soltanto questo aspetto della gestione cimiteriale l'ultima annotazione è per il verde su cui anche ci sono state diverse polemiche anche lì è stata fatta una ricognizione del contratto ci sono delle parti che in realtà la stessa CSP non ha mai svolto penso alle putature ad alto fusto che erano state inserite anche nelle prescrizioni ambientali penso anche alla gestione dei parchi la cui gestione del verde seguirà poi quella che sarà la gestione del parco stesso e quindi questi sono degli aspetti che verranno anche questi reinternalizzati al comune esplode la protesta tra i frequentatori della spiaggia del Marangone che si sono rivolti alla redazione il TRC giornale per segnalare che ieri mattina sono stati allestiti cartelli di divieto di parcheggio nell'area da sempre utilizzata dai bagnanti per lasciare in sosta le autovetture da una parte viene contestato il fatto che non sono state preventivate alternative valide per i frequentatori infatti non è pensabile parcheggiare le auto lungo l'Aurelia visto che sarebbe pericolosissimo per i pedoni a fronte del notevole traffico che si riscontra in particolare in estate allo stesso modo non risulta pensabile parcheggiare le auto dietro il ponte laddove c'è un mini bosco che se dovesse prendere fuoco provocherebbe danni incalcolabili così come non è possibile lasciare la vettura in sosta dietro il casale lontano dagli occhi dei proprietari con rischio che possano essere oggetto di furti e atti vandalici in ultimo i frequentatori si chiedono per quale ragione il provvedimento sia stato assunto a stagione inoltrata e non in precedenza avendo quindi modo nel frattempo di trovare delle valide alternative peraltro viene osservato come attualmente siano stati effettuati investimenti su quella spiaggia libera proprio dal comune con numerosi porta ombrellone in cemento posti a distanza che i bagnanti sono obbligati ad usare e con un efficace servizio di sorveglianza giornaliero che vigila sul corretto andamento della spiaggia in questo modo osservano i frequentatori con la prevedibile diminuzione dei bagnanti si sarebbe trattato di un'ulteriore dimostrazione di spreco di denaro pubblico cambiamo argomento anche il comitato sole esprime il suo giudizio favorevole rispetto alla proposta avanzata nel corso dell'ultima puntata di TRC mattina live dall'ambientalista e giornalista del fatto quotidiano Mario Agostinelli di fare di Civitavecchia un polo di eccellenza per l'energia alternativa prodotta con l'idrogeno il comitato sole ricorda di avere individuato la potenzialità dell'idrogeno a Civitavecchia di avere già proposto oltre un anno fa il progetto portobene comune si tratta ricorda di una rivoluzionaria riconversione ecologica del sistema di Civitavecchia con una produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e il suo utilizzo in diverse applicazioni per il trasporto e la generazione di potenza in ambito portuale compresa l'elettrificazione delle banchine scopo finale fare di Civitavecchia il primo porto completamente indipendente dalla rete e a zero emissioni torniamo alla seduta del Consiglio Comunale di ieri in particolare alla decisione di tornare all'interno dell'osservatorio ambientale un provvedimento che cancella quanto prodotto dalla precedente amministrazione comunale che aveva fidato a Dar Palazzo la gestione delle centraline per il controllo dell'inquinamento una decisione che è stata duramente contestata dal Movimento 5 Stelle sentiamo a riguardo il consigliere comunale Daniela Lucernoni Ieri come Movimento 5 Stelle abbiamo votato contro il consorzio dell'osservatorio ambientale perché a nostro avviso e non solo a nostro avviso è un organo illegittimo e lo stesso Ministero dell'Ambiente nel 2010 disse che quello che aveva realizzato il comune di Civitavecchia insieme agli altri comuni del comprensorio non era quello previsto nelle prescrizioni via del 2003 per la centrale a carbone ma inoltre questo consorzio in quanto non riconosciuto i dati sanitari o ambientali che registrerà non saranno validi se non validati dall'ente regionale pubblico dedicato che è l'ARPA quindi ancora di più una spesa di soldi per realizzare un consorzio che avrà dei costi di personale di 3 o 400 mila euro che non andranno nella tutela della salute dei cittadini ma andranno a finanziare stipendi non meglio identificati quindi per queste ragioni siamo usciti dal consorzio come amministrazione 5 Stelle nel 2015 e per queste ragioni oggi abbiamo rivutato contrari vedremo l'amministrazione che cosa farà e ci muoveremo di conseguenza un angolo del parco Iuris Pigarelli attualmente in fase di restyling sarà dedicato alle vittime civita vecchiesi del covid-19 attraverso la piantumazione di tanti alberi quanto sono state le persone che hanno perso la vita per il virus lo ha deciso il consiglio comunale approvando ieri all'unanimità la mozione che era stata presentata il mese scorso dal gruppo del partito democratico nella mozione veniva ricordato come le vittime del coronavirus non hanno spesso avuto neanche il conforto dei familiari nelle ultime ore di vita è un funerale degno di questo nome veniva anche chiesta l'apertura di un apposito conto occorrente sul quale far affluire i contributi di quanti vorranno sostenere l'iniziativa e che una volta raccolta la somma necessaria gli alberi in ricordo delle altrettante vittime del covid-19 siano piantati all'interno del parco Iuris Pigarelli con nostra grande meraviglia abbiamo letto sulla stampa locale della nascita di un comitato da parte di alcuni familiari lavoratori della RSA Madonna del Rosario i quali sostengono che siamo dei visionari e dei mistificatori dei notizie affermando di aver avuto un atteggiamento ingiusto e lesivo nei confronti della struttura inizia così una nota inviata dal comitato parenti Madonna del Rosario in replica quanto sostenuto dal neocomitato che sostiene la struttura di via Buonarroti ci chiediamo come mai scrive il comitato parenti solo dopo 4 mesi e 22 morti sostentono la necessità di fondare un comitato per la riapertura della RSA affermando addirittura che era una struttura che ha sempre assolto con grande professionalità i suoi compiti ricordiamo che c'è in corso una indagine da parte della magistratura che metterà sicuramente alla luce eventuali responsabilità cambiamo ancora una volta argomento è un Pasquino diverso quello che si propone questa settimana al suo affezionato pubblico presente infatti un sonetto che da una parte affronta una tematica di carattere politico e dall'altra entra nei meandri a volte incomprensibili dell'animo umano il titolo del sonetto è Il coppiere sentiamolo La peggio malattia che pover l'uomo ha dell'invidia e dopo l'arroganza tra loro due c'è stana somianza e chi ce l'ha un po' essa in galantomo l'invidia te fa esse un povero uomo perché ha come un sorcio nella panza l'arroganza te dà quella abbardanza che te fa illuda ad essere un super uomo se poi sti tu difetti a sei marvaggi stanno dentro la gente de potere pure se ci hanno avuto gli suffraggi te pieranno sempre per sedere perché vorranno compensare i disagi de una vita vissuta da coppiere Grandi mozionieri alla sede di Civitavecchia c'è per la presentazione del libro di Claudio De Mauro intitolato Bel calcio si spera in questa opera del giornalista Viterbese si parla della storia del movimento della Tuscia ma sono menzionate anche due importanti figure del calcio Civitavecchiese Angelo Dezio e Francesco Pampinella ascoltiamo le interviste Claudio Di Marco presentato a quest'oggi il settimo libro in sette anni per lei per cui tanta produttività abbiamo visto anche libri in passato sulla Viterbese sulla Ternana sugli oratori quest'anno invece di cosa parla il suo libro quest'anno è bel calcio si spera era inizialmente l'idea sulla copertina c'è un bambino che sta sugli spalti di un campo di calcio e guarda i suoi beniamini magari sogna un futuro migliore noi volevamo che fosse lo sguardo innocente di un bambino verso un calcio che ritornasse ricco di valori come quello di una volta poi gli eventi hanno cambiato tante cose la pandemia per cui abbiamo cambiato un po' quella copertina e quel bambino non solo guarda al calcio che possa essere migliore ma guarda una vita che possa riprendere anche perché quando abbiamo fissato la copertina stavamo ai primi di maggio ancora non eravamo certi che oggi saremmo potuti essere qui per esempio e quindi nella nella consuetudine dei libri che io scrivo è quella di andare a trovare dei personaggi che hanno attraversato la Tuscia ma hanno anche attraversato l'Italia centrale in alcuni casi anche raccontato personaggi che sono arrivati a livello nazionale per poter poi fare un parallelo tra passato e presente cogliendo auspicando con un pizzico di nostalgia che si possa ritrovare quel valore sano di una volta e tra i personaggi che ho voluto inserire ci sono anche due civita vecchiesi uno è il compianto Angelo Tezio che tramite sua figlia abbiamo ricostruito molti ricordi molti aneddoti e poi la storia di Francesco Pampinella che era un possente portiere a cui io dedicai una copertina del mio mensile lo sportivo che dirigevo negli anni Ottanta e ora è un validissimo sacerdote io colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti anche a nome della mia famiglia per aver voluto dedicare questa giornata di ricordo a mio padre nell'ambito della presentazione di questo bel libro di Claudio Di Marco Bel calcio si spera un sentito ringraziamento all'associazione Civita Vecchia C'è ai veterani dello sport a Roberto Melchiorri al presidente dell'associazione per la gentile e squisita ospitalità di questa giornata che veramente ci ha permesso una parentesi di condivisione importante nel segno del calcio e un ringraziamento particolare a Don Francesco Pampinella per i suoi trascorsi calcistici e per aver voluto vivere questa giornata insieme a noi grazie a tutti rimaniamo alla pagina dello sport non arrivano belle notizie per Marco Lodaddio il ginnasta dell'ASGIN della nazionale italiana con la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo già in tasca rischia di vedere parecchio in salita il cammino verso il Giappone infatti martedì dovrà sottoporsi ad un intervento di artroscopia presso l'unità ortopedia dell'Humanitas di Rozzano vicino Milano infatti da tempo Lodaddio accusa un problema alla parte posteriore della cuffia della spalla destra che molto probabilmente si è originato a causa dei tanti sforzi fatti in questi ultimi anni e per la improvvisa pausa dagli allenamenti legati alla chiusura degli impianti sportivi durante il lockdown quindi si complica e non poco il piano di preparazione proprio per le Olimpiadi e vediamo la palla a volo la trattativa è andata in porto l'ASPA e la Dispoli hanno ufficializzato l'inizio di un nuovo progetto di collaborazione teso a creare un'unica squadra di serie B2 femminile le due società hanno messo tutto nero su bianco la composizione del roster è già vicina al suo completamento e naturalmente vedrà un mix tra la Margutta che ha conquistato la salvezza nella quarta divisione e la Dispoli che dopo diversi anni da protagonista in questa categoria anche con la partecipazione ai playoff e che aveva rinunciato a partecipare nella scorsa stagione per motivi economici sorpresa per quanto riguarda la gestione tecnica non sarà Alessio Pignatelli in un primo momento confermato a prendere le redditi della nuova formazione e il nuovo coach sarà Pietro Grecchi che era proprio l'allenatore della Dispoli Grecchi svolgerà lunedì un allenamento conoscitivo in cui partirà ufficialmente la sua esperienza con il binomio bene termina qui questa edizione del nostro telegiornale ma prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook Youtube oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di serata anche con i nostri programmi a risentirci www.trcgiornale.it 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 www.trcgiornale.it